Buonasera, viaggio e turismo? Sì, chi è? Eh, sentite signore, niente, mi hanno consigliato, non prendo il telefono perchè mi hanno detto che... faccio dei viaggi buoni, a pezzi buoni e conveniente. Sì, per te dove sei andato? Eh, signore, se non consiglio, siete signore o signore? Sì, signore, niente. Io sono che ne pagano, ehm, ne signore pagano anziano. Però avreste per una nuova emozione. Mi dico, bai, tra di noi si dico, bai, ma? Eh, perché se provano a rimozio, coca negron, coca mulata, coca brasiliana, perché mio marito, omi draghiador, non funziona, chiede. Lo so, lo so, però, ui! E se, come, se vuoi? Sì, si, vedo il nostro, con che zonano, non penso che tu trasgressai, ma? Che vede da una trentina, vedi, vedi. Io stai con che portano, io stai nel portabù. Grazie a tutti.